Non esiste confine o provincia che ci possa bloccare, non esiste ponte in cui non possiamo passare e non esiste neanche un demone della mente che ci potrà far desistere nell'uscire. Siamo in alto ma neanche le strade chiuse ci fermeranno. Le grandi vallate ci passeranno. Le lunghe irte discese saranno nostre amiche come le più impervie delle salite. Non ci fermeranno gli avversari o gli amici, il freddo sarà pungente, i ponti attraverseranno fiumi. Gelati come il vento del nord, i grandi corsi d'acqua ci guarderanno passare e il vento ci sosterrà alle nostre spalle o davanti a noi. Vedremo i campi nella notte più buia che ci indicheranno la via del ritorno a casa. Correremo per strade deserte, da soli, ma accompagnati dalla nostra passione. In lontananza vedremo il fuoco dell'ardore della nostra passione. Il vento ci darà conforto o ci sarà contrario, ma noi andremo sempre avanti ugualmente. Noi siamo runners, niente ci potrà fermare. Arrivare primi non è importante. Fondamentale è arrivare e non fermarsi mai. Fondamentale è passale di un'altra porta a casa. B